Il Pubblico Ministero Lucio Setola, in occasione della requisitoria del processo scaturito dall'operazione Carte False, che si sta celebrando con il rito abbreviato, ha chiesto complessivamente 137 anni di carcere per 17 imputati. Per gli altri tre, invece, ha avanzato richiesta di assoluzione, la condanna più pesante, 24 anni di reclusione, il Pubblico Ministero l'ha chiesta per il 28enne licatese Gaspare Trigona. 14 anni di carcere, la richiesta per Antonio Giarrana, Mario Barone, Giovanni Lucio Grasso e Fabio Sparacino. 5 anni di reclusione per Salvatore Carlo Sanmartino, Santo Bonanzinga e Giuseppe Pace. 5 anni e 4 mesi per Giuseppe Daniele Nocita, Ivan Sapienza e Concetto Stagnetto. 8 anni per Andrea Daminelli, 2 anni per Carlo Lazzaro. 6 anni per Giuseppe Rapisarda, 4 anni per Carmelo Prato e 3 anni ciascuno per i fratelli Salvatore e Carmelo Antonio Morello. Chiesta l'assoluzione per Enza Pace e Claudio Turrisi. Il blitz Caltefars era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Licata con il coordinamento della direzione distretto all'antimafia di Catania. Complessivamente 60 le persone coinvolte, finite nell'inchiesta al termine di due anni di indagini. Secondo l'accusa che ha riscontrato l'associazione, tra molti degli imputati avrebbero spacciato cocaina e hashish tra Catania e Licata.